Buon pomeriggio e ben trovati a weekend sabato come sempre l'appuntamento con il fine settimana di speciale news web tv non soltanto con le notizie più importanti della giornata ma anche con lo sport all'interno del roseto appuntamento con il settimanale. Apriamo con Sanremo questa sera ultimo atto della sessantasettesima edizione del festival della canzone italiana e non sono mancate le eliminazioni eccellenti con polemiche curiose. Sentiamo. Ed ora eccoci al appuntamento con il settimanale per quanto riguarda gli eventi sportivi del weekend. Incominciamo con il campionato di serie femminile la terza giornata del girone di ritorno propone per la capolista Pallavolo Cirignola una importante sfida interna sabato pomeriggio alle diciotto e trenta al Palavileo contro il Barletta. Sentiamo. E adesso occupiamoci di basket perché domani c'è in programma la decima giornata di ritorno della serie C Silver con l'impegnativo trasferta per la Castellano Udas capolista del campionato che avrà un impegno difficile in trasferta a Monopoli. Abbiamo sentito il capitano della formazione Bianca Azzurra Gianluca Tredici. Sentiamo. Ed ora in chiusura il calcio è cominciato con un importante anticipo la quinta giornata di ritorno del campionato di serie A. Il Napoli batte il Genoa per 2 a 0, torna a meno 4 dalla Juve e intanto stasera c'è Piorentina Udinese. Sentiamo. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di weekend sabato. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con la nostra in formazione domani alle 13 e 30 con Dominica Sport. Buon pomeriggio a tutti.